Non vedo l'ora di incontrare gli altri attori, uno l'ho conosciuto che ci ho lavorato oggi e quindi abbiamo stretto subito un'amicizia, una simpatia. E' uno dei miei figli, diciamo. Io sono un anziano genitore di una grande famiglia che però negli anni si è disgregata, ognuno vive per conto suo. Io non riesco a vedere i miei figli, neanche la mia moglie, la mia ex moglie che già si è sposata. Diciamo che è la storia di un'allegra solitudine, d'accordo? E quest'uomo sente dentro di sé, non benedetto, sente dentro di sé che c'è qualcosa che ha sbagliato nella sua vita e quindi esco oggi da un sistema che non posso rivelarvi, perché lo vedrete alla fine, per poter rivedere tutta la famiglia riunita. E fa una specie di cerimonia, non voglio dire di che tipo di cerimonia. Una cerimonia che potrebbe essere magabra, ma che in realtà non è vero, insomma, è abbastanza festosa, grottesca direi. Un figlio è un artista, un violinista, un musicista, l'altro porta avanti l'azienda del padre abilmente. Mio figlio mi rimproverò perché ho affidato l'azienda al figlio più grande, ma come padre forse ho sbagliato, però penso che comunque una cosa così importante doveva essere affidata con qualcuno che non facesse il musicista, perché portare un'azienda, insomma, avanti da un musicista, insomma, ho avuto qualche problema. E perciò sento che mi divertirò, perché è un grottesco, è qualcosa che in Italia non siamo abituati a vedere. E spero che, sono sicuro che verrà apprezzato da molti questo. Grazie intanto. Grazie.